Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come La morte della regina Elisabetta ha davvero destabilizzato gli equilibri e ormai, con l'ascesa al trono di Carlo gli equilibri sono tutti cambiati In molti si staranno chiedendo cosa succederà adesso a Meghan, Harry e Prole dopo la dipartita della Reale 96enne Meghan e Harry cambia tutto dopo la morte di Elisabetta.Carlo III, questo il nome scelto dal nuovo re, non è il solo ad avere acquisito un titolo prestigioso Tutto è ormai mutato e grosse novità hanno interessato anche i nipoti meno chiacchierati della Royal Family Stiamo parlando dei figli dei duchi di Sussex. Archie e Lilibet, infatti, figli di Harry e Meghan, a seguito della scomparsa della loro bisnonna Elisabetta sono diventati principi Questa regola è stata introdotta nel lontano 1917 da Giorgio V e da allora prevede che figli e i nipoti di un sovrano possano avere il titolo di sua altezza reale, insieme a quello di principe o principessa Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video